per estorciare soldi per questo troviamo queste funzionalità malevole nei software proprietari e non le troviamo mai nel software liberi il software libero è l'unica difesa contro queste funzionalità malevole non è perfetto ma è una difesa e con i software proprietari e gli utenti sono lasciati a se stessi non hanno nessun tipo di aiuto la prossima minaccia alla libertà viene dalla guerra alla condivisione gli editori non vogliono che noi siamo capaci di condividere le copie ma a questo serve internet per quello sono anche buoni computer e condividere è una cosa positiva quindi certamente gli utenti vogliono condividere se è male per quei editori, per quelle società che avevano una posizione privilegiata e volevano mantenere questa stretta sul pubblico e dato che nei giorni le società hanno scritto anche delle leggi per fermarci dalla condivisione e hanno fermato la cooperazione in una maniera e hanno fermato la cooperazione in una maniera per quello lo chiamano la guerra alla comunità perché stanno utilizzando i nostri governi per ammagarci e andranno... saranno risulto a loro non importa cosa distruggono in questo processo il loro obiettivo è stearci divisi e ci attaccheranno in ogni modo potete immaginare che perché la condivisione sia facile e utile non è facile cominciare la gente per ammagarci solo metodi molto rigidi possono funzionare ed è quello che loro utilizzano per esempio molti governi hanno proibito il software libero che può accedere a formati segreti quindi un formato segreto è stato sviluppato per il modo di rimanere digitale e qualcuno capisce il segreto è capace di fare un programma libero che è capace di fare le stesse funzioni allora il programma diventa illegale e questo nell'Unione Europea anche questo è cominciato ovviamente negli Stati Uniti che è di solito la fonte di queste forme di evo ma è stato diffuso da molti altri paesi ci hanno trattato che con l'unico obiettivo è di far promettere ai governi di adottare le leggi ingiuste quindi certamente rimanere questo trattato è un atto di indifizio è lo Stato che si chiara guerra ai suoi cittadini per queste società quindi ogni Stato dovrebbe ritirarsi da questo trattato questo non ha funzionato anche se questi programmi sono illegali quindi sono facili da ottenere anche sui cd che non contenevano queste macchine digitale quindi cosa hanno fatto? ci sono altri metodi di far fermarli stanno imponendo le persone quando vengono accostate di condivisione senza processo questo contraddicce i principi principali della giustizia ma vogliono sacrificare i principi principali della giustizia per raggiungere i loro scopi malevoli abbiamo visto una legge in Francia nel Regno Unito e ora vediamo un plano unofficiale per fare la stessa cosa negli Stati Uniti molti dicono che ci saranno delle imponizioni come un attacco legale sui cittadini un ufficiale degli Stati Uniti ha detto che la distinzione della gente dalla internet come punizione è una violazione basilare dei diritti umani che ci sono potenti c'è un po' di più di più no ok 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 this now filtering of the internet is also trying to block sharing un modo di bloccare la gente e non permetterli di condividere la condivisione ma poco fa lo scopo hanno trovato un'altra scuola cioè come la pedopornografia a few years ago a brandon parlando un incontro internazionale ha detto che noi amiamo la pedopornografia perché è un modo per stabilire un filtro internet e quindi una volta che abbiamo questo filtro possiamo estenderlo a fare quello che noi vogliamo dobbiamo porre fine a questa guerra la condivisione dobbiamo legalizzare la condivisione potranno perdere soldi in questo modo non ci importa diranno che faranno gli artisti a perdare oggi perché gli editori non danno soldi agli artisti gli editori stanno schiacciando gli artisti e quindi dobbiamo compensare quelli a cui i soldi aspettano di diritto questo è una concezione spagliata perché quando dicono quelli a cui i soldi aspettano di diritto è quello di dare un compenso quello cosa vuol dire dare un compenso a qualcuno se hai rotto qualcosa oppure se lo assumi che hai lavori per te in modo che lavori per te allora lo paghi e gli dai un compenso se assumi un musicista per te paghino la tua festa devi pagarli ma se ascolti una canzone questo è un compenso non devi soldi a nessuno per diritto una canzone quindi il compenso implica questo debito non esistente quindi è una parola non corretta come rimunerare questo significa pagare l'argento perché faccio un lavoro è un utilizzo inappropriato in questa situazione quello che dovremmo provare a fare è quello sostenere perché è questo modo di sostenere l'arte questo è un'altra cosa quindi quindi dobbiamo sfruttare lo diritto di ricevere compensare i prezzi acquistare di diritto e trovare un nuovo metodo per sostenere gli artisti io ne ho proposti due uno attraverso le tazze possiamo utilizzare le tazze e i soldi pubblici però non non